Fai come voi, a casa qua, il culo e silenzio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Io sono Nancy, dell'Equador, a noi che ho fatto la scuola. Abbiamo conosciuto magari meno di sei anni fa, su questi sei anni che usiamo i prodotti in famiglia si aumentano radissimi dei prodotti, però inizialmente non ho accorto l'opportunità lavorativa. Però sono stata sempre una ragazza con grandi sogni, con grandi obiettivi nella vita, solo che a 17 anni sono rimasta in Egita, quindi sono diventata mamma troppo giovane. A 21 anni avevo già due figli ed ero anche divorziata, pensate un po'. A 23 ero già sposata per la seconda volta e avevo i figli. Però una cosa che avevo capito nella vita è che se comporti fai delle azioni devi prendere anche della responsabilità. E così è stato. Abbiamo capito che la mia vita e il futuro dipendeva solo e esclusivamente di me e non dei padri dei miei figli. Così prese la decisione di immigrare in Italia a 23 anni con i miei bambini, perché non avevo il coraggio di lasciarmi. E sono arrivata in Italia, la storia è molto lunga, ma però quanto voglio dire è che quando un immigrante arriva a un paese che non è suo, con una lingua che non è sua, si arriva a contentare con quello che prova. In quel momento avevo trovato, nonostante ero ragioniera della fissione perché ho finito la mia laurea, mi sono dovuta accontentare con quello che ho avuto in quel momento nell'unico offerto, che era fare la pulizia e curare le persone anziane. Così è stato, ho dovuto fare questo lavoro per necessità, anche per quel che mi piaceva, però praticamente avevo bisogno di lavorare. Lavorare tanto perché mantenere dei figli non è facile. Sono arrivata a lavorare fino a 16 ore al giorno, quindi lavoravo praticamente giorno e notte, così i miei figli poverini sono dovuti crescere quasi da soli. Io ho la figlia più grande che non aveva i suoi bambini, ai suoi fratelli. E quando è arrivato il quarto figlio ho capito che non potevo dare più un peso a mia figlia perché la madre ero io, nonostante non gli mancava niente perché se lavori tanto anche a fare le pulizie porti dai miei soldi a casa, però non avevo il tempo di stare in favore. Quindi gli mancava la cosa più importante che era la presenza di mamma, la cura della madre. E così ho preso la decisione. Come ho detto prima i pallotti li conoscevo già, però sapevo che dovevo fare un cambio nella mia vita. Ho avuto la fortuna di rincontrare la mia sponsor. di cui avevo visto che in quei 9 anni che io, mentre facevo le pulizie, lei è diventata Presidente. Io da aggiorno soppuravo imparare, anche quando sono venuta in Italia non sapevo stirare, ma ho imparato anche a stirare per lavorare. Quindi sapevo che se ce l'avete votata potevo anche fare la trinta. Però non ho iniziato quel gioco, ho iniziato seriamente. Ho lasciato i miei lavori perché non volevo distrazioni e mi sono dedicata completamente a Equal Life. Non è stato semplice perché la mia sponsor si incontrava nell'altra parte del mondo, quindi Ecuador, quindi non ci sono scuse se tu veramente vuoi fare questa attività. Io ho fatto veramente il lavoro di porta a porta perché non c'era niente, non c'era niente che non c'era niente che non c'era niente. Però sapevo che era importante perché per me una frase che sempre mi ha colpito era la necessità non conosce vergogna. Quindi io non avevo vergogna di andare a proporre i miei prodotti bussando le porte perché sapevo che dietro questi prodotti potevo aiutare tante persone e soprattutto potevo migliorare la mia vita anche a livello economico. Sono rimasta in Equal Life perché Equal Life mi ha dato quella possibilità che non le vrei avuto in nessun altro luogo. e quando vedi il timer ti viene l'ansia perché devo chiedere tutto di cosa, no? E così è stato, sono rimasta in Equal Life nonostante mille difficoltà, nonostante il mio ex marito mi ha lasciata con quattro figli. Credo che più loro mi abbia dato la forza per non andare a rendermi. Però soprattutto era proprio l'appaugurante tornare a fare le stesse cose che facevo prima, quindi fare la polizia, fare la dante perché sapevo che io non sono nata per quello, io sono nata per qualcosa di grande e così... Sì, questa è stata la forza che mi ha riuscito a lavorare nonostante le difficoltà economiche, nonostante tutto, sono andata avanti. Grazie al mio lavoro, grazie al sistema delle sue morte, grazie a tutti... Buon lavoro! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Siamo arrivati a presenti, ho migliorato la mia situazione economica, pensate che abbia stata copertura della casa, però non mi importava perché dicevo, tanto so che divento presenti, anche se mi mandano fuori, io so che riuscirò a comprare una casa, perché tra l'ora, 15-17 anni al primo, che mi mancava, ho potuto comprare la macchina dei miei sogni, ho potuto dare la vita dei miei sogni anche ai miei figli, e sono rimasta anche nel Malai, per il gay, per la comunità, per la community, per i colleghi, per la famiglia che si è creata da qui, ma soprattutto perché Malai per me è stata la mia luce, la mia salvezza, e io vorrei essere e portare la luce e la speranza a tante altre persone da fuori.